Da largo Sant'Anselmo, nella città vecchia, lì dove sorgeva la Camera del Lavoro, difesa strenuamente dall'assalto fascista dell'agosto del 1922 da un manipolo di valorosi guidati da Giuseppe Di Vittorio, a Piazza Libertà, dove una squadra nera freddò il diciottenne Benedetto Petrone nel novembre del 1977. Sono queste due delle 26 tappe di cui si compone il primo itinerario antifascista della città di Bari, presentato nel corso della conferenza stampa di fine anno della CGL di Bari. La mappa indica i luoghi simbolo dell'antifascismo barese e si può seguire sia in versione cartacea che in formato digitale attraverso un QR code che permette di connettersi direttamente a Google Maps con indicatori di luoghi e descrizione dell'evento storico. È la prima volta che la città di Bari ha un itinerario antifascista realizzato su una cartina, quindi sia su un progetto cartaceo che su un progetto digitale, che mettiamo al servizio dei cittadini, al servizio della collettività, perché è stato un anno importante, è stato un anno in cui la città di Bari ha vissuto vili atti fascisti, penso appunto all'aggressione da parte di alcuni componenti di Casa Pound, di cittadini che erano lì a protestare tranquillamente e che sono stati attaccati violentamente. Tra l'altro a quel avvenimento noi abbiamo reagito con forza, con unione, raggruppando tutte le forze democratiche della città di Bari e possiamo dire che anche la chiusura di Casa Pound è stato un ottimo risultato, ottenuto forse anche grazie a quella rivendicazione collettiva. Bari è una città con una storia antifascista ricchissima, noi li abbiamo raggruppati in questo itinerario, che è un itinerario straordinario perché illustra appunto la storia antifascista della città con una descrizione anche storica, con un'immagine anche che rappresenta e che simboleggia il luogo. A partire penso dalla prima camera del lavoro di Bari che sorgeva laddove c'è oggi la scuola elementare di Omede Fresa, una camera del lavoro che venne assediata dai fascisti e che Giuseppe Di Vittorio riuscì a difendere, raggruppando tutte le forze democratiche della città a partire dai lavoratori e dai lavoratrici. Infatti c'è scritto esattamente qui che se almeno mezza Italia avesse potuto resistere, lottare e vincere come Bari il fascismo non sarebbe mai arrivato al potere d'Italia. Questa fu una frase di Giuseppe Di Vittorio che noi abbiamo voluto mettere in testa a questo progetto che abbiamo realizzato.